Che sei alta? Ragazzi, guardate, guardate! La manina di Gaggi, fatta vedere! La manina di Arianna! 20 anni! Con la mano di Gaggi! Chi altro? È alta 1,65 Io sono 1,65 Ragazzi, questa ragazza è una ragazza prodigio Futura campionessa di braccio di ferro Mostra il bicipite Cioè, brutale, brutale Qual è la tua tecnica di braccio di ferro? Come dice Luigi, no, devi dire la tecnica dello struzzo Allora, devi dire la tecnica